Purtroppo, come lei sa, i contatti sono interrotte per via degli arresti. Però su quello che è rimasto a piede libero bisogna essere rudenti, perché la qualità è venuta a mancare. C'è pochezza di tutto, in tutti. Punto e a capo. Per quanto riguarda NG, me lo dicerei che cosa devo fare. Continua a non pagare. E' così che si trattano le persone che lavorano onestamente. Forse non ricorda che c'è un tempo in cui gli ho pulito tante angole. La riconoscenza, per come mi insegnò mio padre, non dovrebbe mai venire a me. Giustamente, a questo babbaluso non ci scafazzi i colna perché ce l'hai da mezzo. non mi permetterai mai. Non ho mai usato un certo tipo di espressioni con lui. Che fare, Angelo, allora? Io riprenderei da la riconoscenza come mi insegna mio padre. non dovrebbe mai venire meno. Dove l'ho organizzata? Ok. 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 Ok.